Questi caschi, mi ripeto, adesso sono di grande aiuto, sono addirittura dei salvavita per chi combatte con il Covid-19, ma sono delle attrezzature terapeutiche che valgono, che sono fruibili in situazioni patologiche che comportano insufficienze gravi di tipo respiratorio. Quanti sono stati donati all'ospedale Sampio? Cinque? Cinque, infatti il quinto l'abbiamo lasciato fuori proprio per far vedere, in effetti non avevo pensato quando abbiamo fatto la donazione al Fatebene Fratelli di lasciarne uno fuori per far vedere che cosa si donava. Oggi abbiamo sopperito, infatti mi sono fatta la foto perché una scatola chiusa non dice niente, far vedere che cos'è invece ha più un senso. E poi, ecco, ieri a Saint Daniel Telegiornale c'è stata la dichiarazione del Premier Johnson che diceva di aver avuto salva la vita grazie a queste strutture innovative per loro. In effetti, da noi sono una realtà. Altrove, come per esempio in America non si conoscono proprio, sono delle attrezzature importanti che in effetti sono determinanti in certe situazioni. Mi è fatto piacere che Johnson li abbia nominati e mi è fatto piacere che proprio oggi si sia potuta realizzare questa donazione perché erano un po' di alcuni giorni che eravamo in attesa di poterli consegnare perché poi nelle strutture pubbliche la burocrazia è sempre un po' impegnativa e allora abbiamo potuto realizzare finalmente questa donazione. Grazie a tutti.